buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro tutorial di freecad sul nostro canale dove stiamo affrontando la realizzazione di un motore particolare per particolare a sempre poi arrivare ad assemblarlo oggi ci occuperemo di questo tubo il cui nome del file è cylinder piping piping tube entry noi come sempre lo copiamo lo rubiamo e andiamo utilizzarlo per il nostro file dopodiché saremo pronti per il nostro assemblato eccolo qua noi adesso andremo a realizzare questa zona ossia questo particolare ok quindi andiamo a dimensionarcelo in modo tale da averlo a fianco al nostro video eccolo qua andiamo a creare un nuovo file e andiamo a salvarlo col nome che abbiamo rubato tramite il copia e incolla come sempre andiamo a visualizzare le origini degli assi cosa facciamo sfrutteremo il percorso di questo tubo due cerchi diametro 9 diametro 12 e creeremo uno sweep lungo questa lunghezza per cui partiamo dall'ambiente draft dove noi sul piano allora aspettate un secondo andiamo un attimo in part ok dove noi sul sul piano yx andremo a crearci due circonferenze quindi draft piano yx utility crea un cerchio lui mi dice dove vuoi che sia il centro del cerchio io voglio che sia sull'origine degli assi quindi gli dico inseriscimi un punto e fammi un raggio diametro 6 ossia raggio 6 ossia diametro 12 ti do invio e il gioco è fatto lui solitamente tende a riempirlo io prendo il cerchio fatto lo copio lo incollo e do al secondo un raggio di 4,5 ossia 9 che come vedete mi inserisce qua ora io dovrò andare a lavorare sul piano zx come creo la mia traiettoria la creo nell'ambiente sketch quindi apro l'ambiente sketch e gli dico ok creami un nuovo sketch lui mi dice dove vuoi fare sul piano che hai visualizzato no voglio farlo sul piano zx o xz ok e come vedete questo fa a questo punto io creo la mia traiettoria la creo in maniera abbastanza casuale quindi parto dal punto 00 sfruttando lo snap e da lì mi creo una linea verticale e una linea orizzontale dopo di che tra queste due linee vado inserire un raccordo come avete visto io non ho inserito alcun tipo di misura le misure le vado a inserire ora le vado inserire creando dei vincoli quindi un vincolo fissa la distanza verticale o la lunghezza di una linea e sarà questa che sarà pari a 27 meno 14 ossia il raggio quindi 13 vedete che mi ha spostato il tutto mi ha spostato il tutto perché lui mi sposta solo la misura che gli dico a me questa cosa non piace quindi torno indietro e prima di tutto vincolo un'altra cosa ossia un angolo io voglio che queste due linee qualsiasi cosa succeda mantengano tra di loro un angolo di 90 gradi a questo punto vado a richiedere il vincolo a questa linea di 13 millimetri e vedete che va a lasciare invariato l'angolo di 90 gradi perché è vincolato e adesso è a dimensionare il disegno in relazione a ciò che gli ho chiesto così come ora io andrò a chiedere al disegno di vincolare questo raggio a 14 vedete che mi sposta tutto ora andrò a vincolare la misura di questa linea quindi vincolo orizzontale e l'andrò a vincolare a 190 meno 14 quindi 176 ok ho fatto la mia traiettoria chiudo il mio sketch e torno nell'ambiente part se mi dà fastidio la griglia vado in draft e con questo tasto la disabilito poi torno in part in part cosa devo fare devo prendere questi due cerchi col tasto control li seleziono entrambi tasto destro del mouse copia tasto destro del mouse incolla due li lascio lì e i due fatti dopo gli vado a orientare nello spazio rispetto a y quello verde di 90 gradi dopodiché gli vado a sopraelevare in z di 27 mm scusate vedete che sono nel posto sbagliato perché devo andare in placement di 27 mm mi succede spesso e in x li vado a spostare di 190 mm e come vedete adesso i due cerchi sono ai due estremi perfetto ora vado a prendere l'utilità sweep seleziono circle e circa il 2 quindi vado a chiedere all'utilità di crearmi un solido secondo il percorso sweep che vado a selezionare gli dico fatto e gli dico ok vedete che ho sbagliato ho unito un cerchio grande a un cerchio piccolo modifica a nulla attenzione allora qua devo evitare confusioni quindi circle e circa 3 perfetto quindi creo lo sweep tra circol circoltre gli chiede di crearmi un solido e di utilizzare come percorso sweep lo sketch creato gli dico fatto gli dico ok e adesso il mio tubo è fatto selezionare seguendo i due cerchietti grandi perfetto prendo lo sweep lo rendo trasparente con il tasto barra spaziatrice mi rimane circolo 1 e circa il 2 quindi utilità di sweep circa 1 e circa 2 sulla destra quindi dico la macchina tra circolo 1 e circa il 2 tu mi devi creare un solido seguendo un percorso sweep che è lo sketch che ti vado a selezionare doppio clic per selezionarlo tutto fatto applica perfetto ora rendo nuovamente visibile lo sweep esterno prendo lo sweep esterno tasto control sul sweep 001 sottrazione di forme come vedete parrebbe che la sottrazione di forme non sia stata fatta questo perché perché sono ancora visibili ho premuto la barra spaziatrice le circonferenze create precedentemente le seleziono una alla volta e col tasto canc senza paura le vado a cancellare cancella e cancella vado su cat premo barra spaziatrice e vedete che io ho il mio bel tubino lo sketch non mi serve più lo cancello e vado a selezionare 12 col tasto control premuto questi 4 spigoli dicendo alla macchina alla macchina al computer di creare degli smussetti da un decimo dopo seleziono con doppio clic tutto il mio tubo tasto destro aspetto rame chiudi e il gioco fatto bene nel prossimo video noi ormai abbiamo tutti i particolari di questo assemblato faremo il tubo d'ingresso e il tubo d'uscita la differenza sta in questo raccordo che mancherà quindi prenderemo tutti i nostri particolari riuniremo insieme questo lo andremo a tappare vedremo come si fa e cominceremo a vedere un piccolo assieme il che direi che non è affatto male vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto al prossimo video se questo video vi è piaciuto come sempre vi chiedo la gentilezza di mettere un like buona giornata